Sulle tante polemiche che ho sentito in questi giorni voglio dire solamente una cosa, ho letto che la segretaria del Partito Democratico Elislein, riferendosi chiaramente a questa manifestazione, ha dichiarato che in altri palchi vedo persone che sono lì solo per accreditarsi con chi comanda e per obbedire agli ordini di chi comanda. Ora io potrei chiaramente fare l'elenco delle persone di sinistra che hanno sfilato su questo palco in 25 anni di questa manifestazione per dimostrare che diciamoci la verità, non ci sono più i sani, orgogliosi comunisti di una volta. Ma non è quello che dirò, quello che voglio dire alla segretaria del Partito Democratico Elislein è, cara Elislein, tu puoi anche decidere di non partecipare, ma non c'è per questo bisogno di insultare tutti coloro che hanno deciso di accettare il nostro invito solamente perché hanno dimostrato di avere un coraggio che evidentemente a voi difetta.